Ecco io spesso nell'interrogarmi quali erano le ragioni di questi provvedimenti, nonostante lo sforzo che mi deriva anche da una esperienza e da un vissuto istituzionale, io spesso queste ragioni non le ho comprese. Non ho capito quali erano le vere ragioni che c'erano dietro quei provvedimenti e in alcuni momenti leggendo le frasi, le parole scritte in quei documenti io mi sono reso conto che non c'era in alcune persone serenità d'animo, non c'era in alcune persone equilibrio, equilibrio di giudizio. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti